ben ritrovati a tutti per questo nuovo contenuto sei nato il giorno 23 del mese allora ti leggerò subito le tue caratteristiche generali straordinariamente intuitivi avete grande capacità di negoziazione eccezionali siete in grado di attrarre di creare tutto quello che il vostro cuore desidera vi impegnate al massimo verso un progetto che volete realizzare bravi così si fa la chiave del vostro successo per la vostra carriera uno dei segreti da tenere presente è quello di coltivare le relazioni sociali mantenervi in contatto con colleghi più di successo e di buttarvi nuove esperienze anche azzardando le migliori opportunità di carriera per voi sono quelle che vi offrono illimitate occasioni di crescita e libertà e impiegare nuovi metodi in tutto il tutto molto concentrato nel genere dello sviluppo per esempio sul marketing lavorare sui media l'attività di consulenza le vendite i viaggi con un favoloso bagaglio di valori tradizionali e volontà innovativa potreste cambiare carriera con successo più di una volta pensate nel corso della vostra vita lavorativa allora poi in amore in amicizia che genere di persone siete che cosa cercate andiamo a vedere e dunque farete parecchi incontri prima di sistemarvi ma una volta trovata la persona giusta sarete appassionati e dedicati tuttavia per voi è vitale avere un senso di avventura romantica anche nella vita di coppia altrimenti comincereste a flettare con altre persone per non annoiarvi quindi facciamo molta attenzione siete considerati socialmente desiderabili voi del giorno 23 non si scherza la vostra sfida da superare la sfida più grande per voi è l'impegno di fare sempre di più sia nel campo professionale che in quello sentimentale i problemi possono nascere dal fatto che assumete più impegni di quelle che potete portare a termine e non stabilire dei limiti precisi quindi attenzione facciamo tesoro di queste piccole perle che ci vengono date da questa descrizione anche seppur generale però riguarda proprio te che sei nato il giorno 23 la frase emozionale la vita è felice abbondante piena di sacrificio ma equilibrata quindi condividete se vi fa piacere se commentate se avete qualcosa appunto da aggiungere in questa descrizione se vi ci rispecchiate oppure no un like un cuoricino quello che voi volete noi di cartomanti europei siamo lieti di accettarla grazie